bella a tutti endermen o meglio dire ciao a tutti endermen qui che vi parla del vostro endernico 980 di quartiere e oggi ragazzi siamo su questo gioco belliximos che non mi ricordo neanche il nome allora raga vi volevo dire una cosa questo gioco hanno detto che è una figata beh proviamolo attenzione oh porca puttana allora io ve lo dico raga bestemmierò ve lo dico quindi infatti questo video sarà il se volete anche voi che ne so degli episodi che fanno ridere ma ridere è ridere bel lavoro gli indicatori arancione porca puttana se c'è bello eeeh giusto tutti ok oh che la pace sia con te è morto ok sono troppo forte raga vado troppo forte raga troppo forte ok ok come mi chiamo mi chiamo cazzello duro no scherzo allora mi chiamerò ok ok fatta raga bellissimo che non originale quindi ok sto con io sono undercapitalia pochi voglio sto troppo forte allora vai vai via vattene via io ti uccido uccidilo non ho neanche cosa ho fatto che bello raga proteggetemi ah una gemma ok ah ma quindi non pensavo che le dovevo portare qualcosa no raga non sto allora sentite ma ci abbiamo la parte nostra allora questo l'ho ucciso raga si è vero sto attreggendo dio dio aiuto porco 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 morite briccole bitch mi sembrate Anthony di Francesco ok raga ce l'abbiamo fatta finalmente si abbiamo vinto se è se è troppo forte se visto raga ok cos'è questa cosa è una figata shelly star quindi io posso avere quella si ma dov'è non ce l'ho più allora wow posso shoppare che novità notizie e io voglio giocare sono troppo forte voglio già giocare io io sono ender capocchia fagnu ti ammazziamo tutti con me vai bastardo guarda la corda bastardo bastardo run run raga run run raga run run raga run run allora qua non mi vedono qua non mi vedono qua non mi vedono raga bella bella cannone cannone vai raga bella eh ma devo recuperare vita troppo forte troppo forte eh zè controllo rovescio ma dai abbiamo vinto zè ce l'ho fatta raga bello ok quindi eh la madonna raga troppo forte avete visto come si gioca io gioco eh però io avere io ho sbloccato io ho sbloccato lei questa raga è una figa ma di quelle proprio che si trovano no scherzo allora uh però siamo diversi stavolta siamo diversi prendiamo la prima via vagnu via via mi nascondo vai bella sì ma quelli che partono di là no sono più avvantaggiati quindi siamo noi allora no questi qua no no allora stati più calmi allora vai vai sì sì l'ho ucciso io zè troppo forti zè tu non vivi ma allora raga siamo troppo forti io allora questi me li prendo io conto alla rovescia dai vagnu non ce l'hai fatta corri ron corri ron no raga ok la ultima e beh raga siamo troppo forti ok allora ora ma che cosa stai dicendo io sono il migliore fantastico quindi ok va bene raga ma perchè prima parli italiano e poi non parli più italiano sono ancora livello 1 ma noi possiamo andare quindi non ho una squadra possiamo sbloccare anche questi e sono su 22 quindi questi sono i leggendari ecco no no amici è perchè io ragazzi non ho un abito sociale dovete capirlo no 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 allora raga no e non mi dire che abbiamo lo scorso in squadra non me lo dirà mi incazza un sacco William ok il mio compagno di classe era il gioco il gioco uccidilo e uccidilo oddio vai uccidilo si voglio mai io torno in vita per leggere è stato un piacere quindi non sto ancora a zero no vabbè raga però è una cosa troppo pista cosa che mi metto tipo in nego oh 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 via via voglio via 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 allora calmi no che bastardata quella da qui raga ok ok bastardo no raga stiamo a p siamo in parità vai vai raga vai vai e raga abbiamo vinto e raga abbiamo vinto sono p dai diciamocelo questo gioco raga devo ammetterlo è bello scaricatevelo perchè raga ci sta è un bel gioco di squadra quindi show è un bel gioco che ci sono Grazie.